Eccoci pronti, togliamo il budello. E andiamo a metterlo dentro alla padella. Sentite come sfricola? E' una salsiccia napolitana, ragazzi, non avete proprio idea. Asciacquiamo le mani. E adesso peliamo le patate. Voi che cosa state preparando di buono aiuto? Qui a mercoliano, oggi è stata una giornata semi-autunnale. Ha piovuto un po' di vento, poi si è fermato. Ma adesso penso che butterà ancora un po' di acqua. Andiamo a tagliare le patate. Che andiamo poi a mettere nella padella. Commentate quello che state facendo. Iscrivetevi anche magari al mio canale, perché è gratis, se avete piacere di farlo. E ci vediamo fra 7-8 minuti. Il tempo che facciamo cuocere le patate insieme alle salsicce. Ciao a noi, a dopo.